Ferre, abbiamo un nuovo cliente e come puoi vedere la casa è abnorme, è davvero un qualcosa di gigantesco, oggi ci tocca lavorare a solo Ferre, mi dispiace Ma perché Stef? Dobbiamo sempre lavorare così tanto qui? È il nostro lavoro, cosa vuoi fare? Scusami Sì, ho capito Stef, ma siamo partiti con case piccoline e potevamo continuare, perché ci arrivano sti clienti che hanno queste idee pazze? Li devi rifiutare, quando tu vedi l'email del cliente che ti dice voglio fare una casa esageratamente grande, tu devi dire no perché non ne abbiamo voglia Ma la prossima sarà un grattacielo Ferre Ferre, vado ad annegarmi Ma porca miseria, hai lavorato una vita per fare questo lavoro e adesso non c'è niente che voglio È troppo basso per morire affogata, accidenti Ferre, ho tutti i soldi io, quindi torna qua e seguimi Forza, andiamo Appena abbagliato il lupo, ciao Ciao lupo, ti volevo dire una cosa, ho speso qualche soldino senza il tuo permesso, poca roba Per comprare un po' di utensili migliori, perché ogni volta non è possibile che ci mettiamo la vita a spaccare tutto Quindi ho pensato, prendiamoci un piccone Oggi te l'ho detto che non mi devi far offendere Stef, non mi devi far offendere Allora Comunque eccoci qua Guarda che bellino che è, si chiama Ineald Ma Stef, hai notato una cosa, fammi vedere bene scusa È troppo bellino Ferre No, no, guardalo da dietro Eh, che c'è? Non c'è nulla di strano È carino È un'anguria, Stef Esatto È un'anguria È un'uomo anguria Come può un'anguria parlare di essere un uomo? Le angurie si mangiano, si coltivano e tutte queste cose, ma non possono essere uomini, Stef Beh, Ferre, a dirla tutta C'è qualcosa che non va oggi Non solo è un'uomo anguria, ma è anche molto più carino di te, cioè non c'è proprio paragone Guarda come sorride, è tutto felice Tu sei sempre arrabbiata col broncio È molto meglio lui, Ferre, non attaccarlo, che c'ha i soldi e non l'abbiamo bisogno L'ho uccido, Stef Ok Se riprovi a dire una cosa del genere, io l'ho uccido Stai calma Allora, ci parlo e vediamo un attimino cosa dice Ok Sì, se mi state chiedendo, sono un uomo anguria Ok, almeno ci ha tolto subito il dubbio, grazie mille Qualche mese fa ho vinto una fortuna alla lotteria di Minecraft e ho iniziato a vivere nella ricchezza più totale Perdendo ad un certo punto il controllo Succederebbe anche a Ferre, quindi non c'è problema Non ti giurico Se Ferre vincesse la lotteria, li spenderebbe tutti nello stesso giorno Che più amministro bene i soldi su questo pianeta, Stef Tant'è che tengo io il portafoglio con tutti i guadagni della serie, Ferre Solo perché sei tirchio, vai Avendo finito tutti i soldi, gli operai non hanno finito di costruire la mia bellissima casa E al momento risulta invivibile Potete darmi una mano a sistemare almeno il pieno terra? Sono riuscito a raccimolare qualche soldo lavorando qua e là, vi prego Ma ok Nel senso Io avrei un'obiezione Come fai ad essere un uomo anguria? Me lo devi dire Non è la parte importante La smetti di dare Voglio diventare una donna melone, quindi voglio Non una donna anguria ma melone, tu hai deciso Sì, che mi istruisca, perché mi piace forse un po' di più il melone Ok, va bene, non mi interessa In ogni caso Ho una donna fragola, Steph Oh, mamma mia, la sopporto più Stavo dicendo, è abbastanza grande anche il piano terra Ah, guarda, Steph Ci sono un bel po' di stanze Sì, lo so che lì c'è la cosa che chiude, l'ho già visto, Ferre Cioè, il piano bloccato Non è che poi nel prossimo episodio ci fa fare pure il secondo piano Ma spero di no Sono screnzato, Steph Tanto non c'ha soldi, quindi non credo, Ferre Ma magari ne guadagna E come fa? Che rincia la lotteria due volte? È impossibile, per favore Sì, vabbè, magari è molto fortunato Che ne sai se le angurie sono molto fortunate Non voglio continuare questo discorso In ogni caso, dai Allora Sembra un bel lavoraccio Perché comunque è abnorme Sto guardando Posso fare una domanda? No, aspetta, dovevo esporre il mio piano Ok Mi è già venuto in mente un po' come disporre le stanze Ok Però Steph, fuori Ci ha fatto un disastro Beh, non hanno finito il lavoro, quindi Eh, ci sono buchi ovunque Blocchi di tutti i colori che non hanno senso di esistere E oltretutto è davvero gigante Ma io posso chiederti una cosa Dimmi Ma se noi dobbiamo fare soltanto il piano terra Fuori dobbiamo sistemarla tutta o solo il piano terra? Ma no, tutta, Steph, dai Ok Tutta, mi sembra Allora ci dovrà pagare davvero bene Poi dipende anche Perché è abnorme Da quanti soldi ci dà Perché lui ha detto che un po' gli ha racimolati Però sai, con me ce ne vogliono tanti Esatto Per questi blocchi, Steph Per sbaglio ci sono novità nel villaggio Uh, mi sembra che si sia giunta a qualche bancarella Aspetta Aspetta Ma non era la bancarella di Pietro questa, Steph? C'è grande materia Eh Vieni qua Oh no Eh Li sta facendo concorrenza? Ma anche in modo spudorato Ha messo le stesse cose nei frame Uguali identiche Sarà molto arrabbiato, vero? E vendono le stesse identiche cose praticamente C'è lo stesso genere di materiali Più o meno Devo dirti una cosa Che in questo caso La concorrenza forse è qualcosa di un po' più carino Un po' più adatto Esatto Al nostro caso Perché io pensavo un po' infatti di modificare la casa Con questi tipi di materiali Con il quarzo Sì ma Fere Cioè Pietro ci sta già guardando male E non se può Fere Non so che fare È come quando ce l'hai presente in città Ad esempio Apri un edicolo in un posto Metti in una bella piazza grande E dall'altra parte della piazza Che quindi sono tipo 50 metri Ne apri un'altra E tu non sei più da edicolante andare Capisci? È la stessa cosa È un po' imbarazzante È difficoltà della vita In ogni caso Mi è sembrato di vedere Che finalmente È arrivato il banchiere Nel nostro villaggio E ci sta Si chiama Luigi E se ci parliamo Ovviamente ci permette di cambiare Tutte le nostre banconotte Con altre banconotte In questo modo Quando abbiamo bisogno di cambiare qualche soldo Per comprare alcune cose Siamo totalmente tranquilli Almeno Poppy non si arrabbierà più Steph L'altra volta ho chiesto il cambio a lei Si è arrabbiato un botto Esatto Io oggi infatti la lascerei in pace Sì 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 Scusa Poppy Guarda Non compiamo neanche i fiori Così proprio non ti disturbiamo oggi Forse quelli lì Dovremo comprare Così ci finisce di perdonare Sì In ogni caso Dai Fede Se Angelo ha le cose migliori Compiamo ad Angelo Ma mi dispiace per Pietro Eh lo so pazienza Ascolta Eh Vado a distrarre Pietro Così non se ne accorgi Ok Eh ma mi Ciao Pietro Che cos'è Aspetta Compriamo qualcosina anche da lui No tipo Il vetro No No Non vuoi comprare nulla Aspetta Dimmi quanto costa il vetro da lui Eh 16 E qua costa 6 Ciao Pietro Ma Non puoi farti battere così Scusa eh Vedi In quel caso Magari non è un edicolante Ma il negozio di un'altra cosa Ti fa i prezzi più bassi Ferre non è molto leale Io sono per il giusto Se una persona Mi fai un prezzo più basso E io guadagno di più E quindi c'è giustizia nel mondo Ah Cioè Quella la giustizia Per te Capisci Non è quella Io sono per il giusto Va bene Scusa Allora Di sicuro ci serve un po' di stone slab Vero? Perché ne ho visto mancante qua e là Sì E quanto ne prendo? Ah Steph Non so È abnorme quella casa Quindi tanta È difficilissimo gestirsi eh Eh sì Siamo abituati a cosa un po' più piccola Poi i pavimenti Di che cosa li vuoi fare? Eh Vediamo Secondo te come ci stanno bene? Perché ho visto che dentro è tipo in stone Mischiata a granito O qualcosa del genere Io stavo pensando di farlo in lana Sì ma che colore? Che colore? Lo facciamo tutto uguale Contando che Allo stesso prezzo Si può un attimino anche riflettere Oppure cambiamo il colore delle stanze Magari poi il corridoio rimane di un altro colore Ma sai che io prenderei la light grey wool Che è abbastanza neutra E la metteria un po' ovunque Sì vai Ok Allora ne do prendere un botto Se ci rendiamo conto che qualche stanza La vogliamo fare diversa Torniamo qua Che comunque è molto vicino come negozio Quindi Non c'è problema Allora ne sto comprando 5 stack E vediamo se basta Poi il vetro più o meno Secondo me ce ne bastano 48 Allora ho visto Steph Non ce n'era molto Che i vetri sono uguali a questi Quindi basta ripararli Allora torniamo Iniziamo a fare il grosso Inizio a demolire tutti i pavimenti Ok E poi piano piano Torniamo constantemente avanti e dietro Hai notato una cosa Steph? E beh Dove stai camminando? Eh già In una stradina Sì abbiamo Lo diciamo Abbiamo fatto entrare il nostro assistente nel mondo Che ci ha fatto una bella stradina per collegare tutti Perché io faccio schifo a fare le strade Esatto Devo fare l'architetto Non lo stradaiolo Steph Ovviamente Lo stradaiolo È merito suo se c'è il banchiere Se c'è Angelo E ovviamente È molto interessante Quindi Diciamo che sta iniziando a migliorare anche questa serie Grazie a lui Allora qua infatti la stradina è tutta brutta Proprio perché Ovviamente la casa non è pronta E ci sta la grande Certo Ah vedi La wool anche qua però serviva Ah sì è vero Poi allora vado a prendere Secondo me quella nero scuro qua Ci sta bene Perché comunque è la strada del garage No io la farei Il grigio medio Questa Questa qui Ok Questa qui davanti a me Ok Poi nel caso dopo vado a comprarlo Troppo scura nero Troppo scura Steph Allora Fere Come ci dividiamo i compiti? Vuoi fare il pavimento dentro? Beh io mi metto a fare quello Sì È un lavoraccio Lo faccio io Allora passami gli altri blocchi Inizio a sistemare qualcosina nell'esterno Ok Che fatica Fere Mamma mia Steph Mamma mia Sono stanco morto Allora credo che abbiamo finito tutto Manca soltanto da arredare tutta la casa Ma guardatela da fuori È meravigliosa Fere questo è un capolavoro Sì Questo è davvero un capolavoro E poi anche questa volta Steph Abbiamo solo cambiato i blocchi Ho cambiato giusto la forma dell'ingresso iniziale Che erano tutti messi male Non so gli operai Cosa gli abbiano combinato Steph Però per il resto vedi Sì 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 La casa è rimasta quasi Ti è nello stile ma quasi non si riconosce Da quanto è più bella Comunque c'è un bel lavoro Allora invece all'interno abbiamo scelto appunto questo pavimento È molto spaziosa ed è molto bella Fere dove sei tu in particolare? Sto facendo la cucina Buongiorno Guarda Wow È molto bella Mi ho messo un bel frigo largo Guarda Steph Mi sa che stiamo spendendo più in arredamento che in blocchi Eh io te lo dico Sì ma infatti i guadagni stanno rimanendo davvero pochini Eh io te lo dico Però una mansion va fatta come si deve Non è che puoi fare una cosa che fa mezzo schifo Questa qua sarà una pubblicità Esatto Che mamma mia ci troviamo talmente tanti clienti Che dovremmo assumere altre persone che lavorano per noi Ovviamente Lascia perdere Allora mi dici un attimo quali sono le varie stanze Così inizio magari ad attire a mano Allora di fronte alla cucina Ok aspetta aspetta che devo mettere il tavolo Guarda mi sono qua col tavolo in mano Ok Qua pensavo di fare tipo un salottino Ok Zona soggiorno Contando che ci entra anche una bella luce da fuori Perfetto Poi qua fammi vedere Ah questo sì Questo sì Steph Allora noi praticamente qua Ok Gli facciamo la camera da letto Buchiamo E quello diventa il bagno personale Carino Bella questa idea Aspetta aspetta Gli potrebbe piacere tantissimo Ok Doppia porta Eh penso di sì Ci sta Penso di sì Ci sta Ok mi piace Sì 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 Mi piace mi piace mi piace mi piace E allora Ah e poi questo vabbè Mi sembra una specie di ripostiglio Penso che mi piaceremo qua una chest Steph e si posiziona quello che vuole Ok Qua c'è il garage che forse lascia il vuoto Perché se vai parcheggiare l'auto È meglio non mettere nulla in mezzo alle scatole Sì ma poi c'è anche l'accesso all'altro piano bloccato Quindi per ora le lascerei tutto chiuso Ok sì quindi camera da letto Se lo sistema lui Con bagno Infatti c'è anche la finestrina piccola Quindi è perfetto Soggiorno e cucina Ok Ferre vado a prendere qualche altra cosa E ci sono Ce l'abbiamo fatta la casa è finita Vi facciamo fare un super mega tour Ineldo sei felicissimo Come cosa sono le angurie felici Ferre dimmi un po' Cioè come si comportano anguria felice Cioè non lo so Sei felice quanto un'anguria Non suona malissimo Eh no sorride Sorride Ma stava sorridendo anche prima Perché è sempre felice Vabbè Ineldo è contentissimo Si vede benissimo In ogni caso Garage appunto Abbiamo accetto vuoto Per da spazio alle macchine Poi Quando avrà una macchina Abbiamo messo delle chest Quando avrà una macchina Quindi mai perché ha speso tutto Dopodichè Iniziamo sul serio Camera da letto Guardate un po' Bellettone Comodino Qualche quadro Cesto Una sede dove sedersi E qua ovviamente dove vestirsi La parte bella Che questa è stata l'idea di Ferre Abbiamo collegato tutto Col bagno privato Che qua Anche una bella vasca Guarda Ferre la provo pure Ferre Pensavo mi potessi sedere di fronte Allora vado qua Vabbè Ci voleva Eh sì Dopo tutta sta fatica Sì Steph Ok Comunque quindi Bagno e camera da letto Strabelli Secondo me sono una gran figata Poi da questo lato Secondo me Ferre Si è superata Allora Vai Cucina Con Shbam E Shbam Guardate un po' che bello Guarda anche il frigo enorme Steph Guarda Bello Sì vero Davvero 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 good E poi qua Abbiamo Il soggiorno Wow Ferre abbiamo speso troppo Per il soggiorno E infatti Non so se sei notato Steph Il resto della casa È un po' spoglia Cioè tipo il corridoio è un po' vuoto L'ingresso è un po' vuoto Però sai com'è Sì ha raccimolato un po' di soldi Ma non è che ne avesse tantissimi Esatto E oltretutto una mansion richiede tanto lavoro Erano tante le stanze L'arredamento Poi non è che sia così tanto economico Guarda Quindi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto A noi ha pagato più o meno 200 E credo che in assoluto sia la casa che ci ha pagato meno Ed è anche la casa più bella Sì Quindi non si può lamentare in nessun modo Magari non so se in futuro riuscirà a guadagnare altri soldi Magari gli sistemiamo anche l'ingresso Se lui vuole Certo certo Ma ti ripeto Magari ci torneremo Io non credo che rivincere la lotteria E non mi sembra uno che potrà guadagnare tanti soldi Però se ce li avrà in qualche modo Noi verremo qua E volentieri faremo anche il secondo piano In ogni caso Un'altra opera è stata completata Secondo me Comunque da fuori È davvero bellissima Cioè comunque da fuori fa la sua figura Ripeto L'arredamento va completato Ma con le sono fatti su E comunque da fuori Noi ci possiamo ben vantare E direi che è ottimo Ma guarda Fede Io ti dico Che secondo me Noi iniziamo ad avere i soldi Per fare la nostra casa Eh sarebbe anche ora Perché Vedo che abbiamo Un centone Otto da cinquanta Quindi abbiamo una roba come cinquecento Poi Trenta da venti Quindi abbiamo una roba come Secondo me quasi novecento Considera che abbiamo costruito case per tre cinquanta Io credo che una bellissima casa ci possa ormai uscire Quindi magari magari il prossimo video di questa serie Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere Lo fateci sapere nei commenti Con like se sono da giù eccetera eccetera Se vorreste che è quello E ci fermiamo così Ciao ciao